e oggi ci troviamo qui a cademario per la seconda gara cantonale ecco il tempo si vede che è proprio contrario quello che abbiamo avuto settimana scorsa a montorfano in italia diego pattugliatore siamo qui con diego ci darà un posteggiatore scusatemi ci darà una piccola informazione sulle sulla meteo che attualmente abbiamo qui a cademario e non è delle migliori diego diego innanzitutto da quando sei qua e dalle otto e mezzo di stamattina fa un po freddino continua a nevicare hai già fatto colazione no hai fame sì hai freddo sì e adesso iniziamo a mandarle di qua e ecco cosa ci dici in cioè in riguardo la meteo cosa ci dici cosa sai di quanto ci aspetta oggi nella gara di quello che stiamo già vivendo è probabile che continuerà a nevicare almeno fino a mezzogiorno e che inizierà a smettere ad aprirsi sicuramente verso l'una alle due a sentire le meteo quindi però si apre dovrebbe se vediamo qui adesso e fiocchi diventa sempre più grandi bombe per la meteo penso per la meteo penso che tutto grazie diego ti diamo ancora buona fortuna per i prossimi le prossime ore che dovrai star qui in piedi portatevi un calorifero magari riportiamo un tè però penso che non lo facciamo ecco mandiamo indietro allo studio è stata la tua prima gara ti è piaciuta sì ti sei divertito sì e com'era il percorso un po scivoloso l'hai trovato difficile sì perché cosa è successo hai trovato tutti i punti no ti sei perso un pochino sì ma comunque ti sei divertito sì ci troviamo qui con olek e che ha corso oggi in acqua 50 olek com'è che hai trovato la gara molto bella gara un po freddo ma va bene sempre bene invece del tracciato cos'è che ci puoi dire è tracciato normale per questo per marzo abbastanza c'è salita c'è discesa deve stare molto attento basta come tracciato piaciuto la neve in questo mese com'è che l'ha trovata e non trovato la neve c'è un po freddo ma il fondo scivoloso ma non ho trovato neve ok grazie mille continuiamo con il nostro rapporto con il primo porto per amiria al gusto secondo il primo porto per amiria al gusto secondo il primo porto per amiria al gusto il primo porto per amiria al gusto per amiria al gusto per amiria al gusto per amiria al gusto io Non di control